Ciao a tutti, io sono Roberto Beltrami e qua c'è Federico e Kim. Sono il fondatore di Wave Murano Glass. Stiamo cercando di formare una nuova generazione di vetrai che hanno le conoscenze e le abilità dei grandi maestri del vetro del passato ma che sanno anche lavorare nel mondo moderno. La cosa bella della cultura dell'aperitivo veneziana è il fatto che è sempre un momento che porta le persone insieme, che si tratti di Cà. E' un po' quello che cerchiamo di fare all'interno della nostra realtà e aprire le porte di una vera fornace produttiva a Murano a dare alle persone un'esperienza unica che porteranno con loro come memoria per sempre nella vita. E' un po' quello che cerca di fare anche Afro. Grazie a tutti.